Oggi vedremo insieme come si eseguirà un trucco per tutte le occasioni e avremo modo di vedere insieme, nello specifico, i prodotti che utilizzeremo quest'oggi per realizzare il nostro make-up. Partendo dalla famiglia dei lati detergenti e tonici e creme idratanti, per quello che compete un'ottima e definita pulizia del viso, per poi passare a quello che è dei fondotinta con tutta la linea dei minerali, fondotinta fluidi, il correttore fluido, le polveri che sono delle polveri in fondotinta, però vengono utilizzate anche come ciprie fissative per il make-up, per poi passare a tutta la linea della gamma degli ombretti in polvere, ai fard, sempre ai minerali, ai mascara, volumizzanti e tutta la linea dei rossetti e dei gloss. Grazie. 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 Grazie.